Essere tutor all'interno di tutto marito mio significa prima di tutto avere cura della crescita personale degli studenti contribuendo attivamente la loro formazione. In questo periodo della vita si fanno tanti errori ed è importante sbagliare ma è proprio per questo che evitare le conseguenze di questi errori può essere importante. Questo è il ruolo di una guida. A volte parlando ci sembra che non ascoltino, non sempre rispondono come si vorrebbe, ma nei fatti sono stati sorprendenti. Le ho visti crescere, trasformare le difficoltà in occasione di miglioramento, ho visto generosità nel volessi aiutare, incoraggiare fra di loro e il sincero desiderio di diventare loro stessi esempi di positività, testimoni con la loro stessa vita che un mondo migliore è possibile. Grazie per la visione! Grazie!